Hi kids, hi boys, hello girls, let's start another English lesson. Bene, allora, dovete incollare sulla barra degli indirizzi questo link che vi ho mandato. Ecco qua, si apre un programma che si chiama CAUT. Che cos'è CAUT? CAUT è un programma che noi insegnanti utilizziamo spesso per fare delle verifiche, dei quiz, delle domande su degli argomenti. Questo CAUT è stato creato dalla Cambridge Assessment English ed è una piccola verifica per misurare il livello di inglese in cui dovremo trovarci noi adesso. Quindi è un piccolo test che andiamo a fare tutti insieme. Quindi come si fa? Si collega internet a questo indirizzo che vi ho mandato, si scrive il vostro nome, si schiaccia il tasto GO e si prova a compilare il quiz. Molto semplice, ci sono 11 domande. Potete svolgerlo con il vostro computer oppure con un tablet o uno smartphone. E c'è anche un'applicazione che si chiama CAUT. Comunque è sufficiente veramente scrivere l'indirizzo, un nome e cliccare su GO. Lo correggeremo poi insieme. Per i bambini della seconda E invece manderò un altro link perché questo lo abbiamo già fatto in diretta, insieme. E ci siamo anche divertiti molto. Quindi magari ne potremmo fare un altro. D'accordo? Ok, buon quiz e buon divertimento. This week we'll talk about English and art with an animated short story in English. Ora guardiamo insieme un piccolo cartone animato in inglese con i subtitles, con i sottotitoli, che ci parlerà di arte e inglese ovviamente. Io ogni tanto lo interrompo e provo a tradurre qualche parolina insieme. Ok? Let's start! Let's start! Let's start! Lunchtime! Great! I'm starved! What do you think? Oh, yes! Yes, I like it! If you ever need a blue book, you know it's right next to a yellow book! Oh, wow! A flower! Terrific! Ecco, questi bambini stanno facendo pranzo, lunch, hanno molta fame e, come spesso fanno i bambini, hanno giocato un pochettino con il cibo, lo hanno trasformato in un flower, in un fiore. E la bambina si è ricordata che aveva visto questo fiore, fatto con il cibo, con frutta, quindi, l'aveva già visto in un big red book, cioè in un libro grande e rosso. Adesso vanno subito a cercarlo, nella loro biblioteca. Oh, 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 yes, big red book, now, where is it? I guess I love to reorganize my books. Scommetto che adesso dovrò di nuovo mettere a posto la mia biblioteca. I'm Wolfgang Lesius, the librarian of course Avete visto? Da quella catastra di libri è comparso un librarian Un antico librarian Un bibliotecario che si chiama Wolfgang Lesius Giuseppe Arcimbaldo, my dear friend, in a book Where did Mr. Librarian come from? Hey, that's you Mr. Librarian What a cool painting You're all made of books Made of books and librarian That is funny Yes, Giuseppe Arcimbaldo is quite fun to say the least Well, I must be getting back It was a pleasure Ecco, il bibliotecario è apparso anche in quel libro di opera del pittore Giuseppe Arcimbaldo E allora i bambini vogliono farsi raccontare la storia E il bibliotecario è molto disponibile e decide di portarli con sé indietro nel tempo Indietro di 500 anni Five hundred years ago Oh, you took my book Don't worry, we'll get it Mr. Librarian Uh, Mr. Librarian Sir, you have my book Wow Ah, what a pleasant surprise Hello, Mr. Librarian Um, I think you, um, accidentally brought my book with you Oh, the book With Arcimbaldo's paintings in it Oh, dear I'm terribly sorry We'll find it But even better You're right here at Arcimbaldo's art studio At the illustrious imperial court And there is the royal painter himself Ah, well, and who are these enchanting ghosts? Ecco, è comparso Giuseppe Arcimbaldo Royal Painter Imperial Painter Era il pittore di corte al servizio dell'imperatore E lui gli dice Oh Oh, look at what we are these enchanting ghosts Chi sono questi incantevoli ospiti? This here is Matty And I am Dada Delighted Perfetto You have given me a most fanciful idea What a great costume What's it for? The royal pageant is tonight It will be the most illustrious Flashy affair yet Arcimbaldo designs the most flamboyant Scintillating parades His imagination knows no bounds His imagination knows no bounds Giuseppe Arcimbaldo aveva un'immaginazione senza confini Come voi, bambini Non era solo un grandissimo pittore Ma era anche uno stilista, eh? Creava le collezioni di vestiti Per le feste che teneva l'imperatore Oh, look! What a beautiful picture of a woman This one I call spring Flowers And leaves And how it's strawberries Flowers Flowers Fiori Leaves Foglie Strawberries Fragole Questo ritratto si chiama spring Che vuol dire primavera Guardatelo con attenzione, eh? Garden A garden? It's a painting of a head with a hat on it Yes, indeed I see a woman's head Ah, look! It's a garden with flowers! Ta-da! That's an ear! Ha-ha-ha-ha! Si-si! It is an ear and a flower It depends where you are You see two different things Now you go close And-da-da! You come back here The ear is a flower! If you go close Se vai vicino You can see A flower garden Un giardino alla primavera, eh? But if you are back Se tu sei più lontano Tu vedrai La testa di una Fretty lady Di una bella signora Quindi If you go close You can see flowers If you go back You can see A pretty lady Una bella signora And a pretty lady But if you look at the damn Pretty lady Flowers Pretty lady Amazing! It's two paintings in one! Amazing! It's two paintings in one Meraviglioso Amazing vuol dire Stupefacente Meraviglioso Eccezionale Two paintings in one Due dipinti in uno Oh-oh! Wow! I love to make people smile And be amazed Come, come! Please keep an eye up For my book Oh dear, yes I'll keep looking for it too Archimbo Noah had the dragon costume Worn by a horse In a parade Everyone was very surprised I was thinking of using that again For tonight's big gala A bowl of vegetables Nice It's not a bowl of vegetables It's a strange looking man Wearing a black hat How can you say a bowl of vegetables Is a man? Because it is Um, I have to agree with Matty It is an exemplary still life of vegetables It's a man From far and close It's most definitely a bowl of vegetables Avete visto un altro ritratto molto particolare Se lo giri da una parte Vedi a bowl of vegetables Cioè una ciotola Una scodella di verdure Ma se lo giri dall'altra parte Vedi il ritratto di un garden man Cioè di un ortolano, eh? Guardate Le sue guanze sono della cipolla Eh? Well Oh, this is delightful confusion It is a strange gardener The basket is his hat And it's also a... Ecco qua The basket is his hat Il cestino diventa il suo cappello D'accordo? Fantastic Da-da Painting of vegetables It's amazing His cheek is a big onion It's tricky I arrange things to look like people It's interesting to look at something And see how it could be something so completely different And they're all made of what they do The vegetables making the gardener Spring flowers making a portrait of a spring woman And all the books making the librarian That would be mine Eh, potrebbe essere il mio Guardate un po' cosa succede adesso It was a pleasure to meet you, Mr. Librarian Your art is so wonderful I want to make a face out of different things too Sì, sì It is a most enjoyable To a new people Have fun in the galaxy And thank you You are most welcome Ecco, adesso i bambini tornano indietro Anzi, avanti nel tempo E gli dicono Però voglio provare anch'io A costruire qualcosa Che abbia Two different faces Due facce differenti Di l'altro Come back to see me again sometime Look, Dada Ha, ha, Dada-rific Dada, what are you doing? Come on Yes, two glasses of freshly squeezed juice Bene, Mati e Dada hanno seguito gli insegnamenti di Giuseppe Arcimboldo e hanno costruito due ritratti con della frutta, un del fruit and vegetables e hanno anche bevuto two juice of fruit, due succhi di frutta che fanno molto bene e ora che ci proviamo anche noi bambini, io ho seguito i due video che ha preparato la maestra Vanna della classe seconda che ringrazio molto che mi ha dato questa bellissima idea, ve li allego anche nei compiti su Regel e in questi due video ci spiega proprio come poter fare questo lavoro Sintetizzando dovete prendere a white paper, a pink paper se non ce l'avete un foglio di carta rosa lo potete colorare con le vostre matite colorate with a pink crayon, then you have to cut with the scissors, tagliate con le forbici the paper, like an oval, vedete, oval shape, forma ovale, molto bene poi incollate the pink oval on the white sheet with the glue, incollate da, benissimo dopodiché you have to go in your kitchen, not in cucina you have to open your fridge and you have to open your fantasy dovete andare in cucina, aprire il frigorifero e aprire la fantasia guardiamo un po' che cosa ho trovato io I have found two eggs one carrot one biscuit or cookie two chips and some salad ok I repeat eggs carrot biscuit chips and salad and this is my Archimboldo's face salad salad air eggs eggs ice carrot nose nose chips ears biscuit mouth I repeat mouth biscuit mouth mouth nose nose carrot nose chips ears eggs eggs ice salad air d'accordo? e ho fatto anche un piccolo video di presentazione con mio figlio Lorenzo, ve lo faccio vedere che è una scuola che si carica che ci carica il connessione con un po' che ci carica gli aggiungo il mio figlio di benissimo che si carica ice, eggs, eggs, ears, chips, its, nose, carrot, mouth, mouth, biscuit, salutò con e bye bye, bye bye, ciao ciao! Bene, avete visto, vi chiedo quindi questa settimana di scatenare un po' la vostra fantasia e creare anche voi il vostro Archimboldo's Portrait, d'accordo? E poi ci mandate la foto e noi la carichiamo sul Padlet e le condividiamo tutti insieme, grazie! Da nuove del nostro libro Ginger trovate anche un'altra opera di Giuseppe Archimboldo, si chiama Vertunno, chi era Vertunno? Vertunno era un dio pagano, il dio delle stagioni e il dio del cambiamento e anche qua è un ritratto dell'imperatore ovviamente, trasformato in un dio pieno di frutta e pieno di verdura dove troverete delle cherries, delle apples, a pear in the nose, a big pumpkin and some onions, d'accordo? Provate a completare questa pagina mettendo le parole cherries, apples, spears, pumpkin, and onions al posto, giusto? And I have finished, have a nice week and good work! Ciao ciao! Bye bye!